Allora con grande piacere saluto gli amici del canale YouTube La Voce dei Laziali presso la quale sono intervenuto ieri sera insieme al mio amico Renzo e ci siamo anche veramente divertiti molto. Una bella iniziativa fatta con la semplicità e ovviamente la passione dei tifosi quindi ovviamente è un qualcosa che va recepito in questo modo quindi è un grande piacere sapere di essere ovviamente apprezzati e richiesti da loro ma io dico sempre che io sono uno di loro, io sono semplicemente un grande tifoso della Lazio e ovviamente un laziale tra laziali. Quindi seguite ovviamente la voce dei Laziali per quanto mi riguarda, lo dico agli amici ovviamente ho comprato un giornale perché nel caso della prossima volta ve lo sapete quando ci sono i sequesti di persona uno deve aprire il giornale e far vedere che giorno è e tutto il resto perché eventualmente doveste chiedere un riscatto ieri sera ma la soccavata la prossima volta, non lo so. Un grande abbraccio a tutti e seguite la voce dei Laziali, complimenti ancora. Grazie a tutti.